Buonasera amici ascoltatori benvenuti al Montolk, trasmissione che ogni settimana vi tieni informati su quelli che sono i fatti più interessanti. Siamo qua ancora oggi con la rubrica Jurassic Parma per insomma parlare delle vicende del Parma Calcio. Siamo qua e siamo Andrea e Francesco in regia, bentornato Francesco all'esordio stagionale per parlare del Parma Calcio quindi di questa nuova rinascita e di questa corsa verso le serie speriamo superiori alla serie D. Parma la Fenice. Parma la Fenice ecco. Fenix Parma. Fenix Parma era uno dei nuovi titoli che volevo usare per la rubrica poi alla fine ho scelto Jurassic Parma. Deve essere anche il nome della nuova società io l'avrei votato. Parma Fenix. Fenix Parma l'avrei votato. Carino carino. La prima grande differenza che troviamo tra la serie D e la serie A è quello che abbiamo messo nel titolo di fatto perché cavolo in solo le due partite abbiamo visto tra rigore quindi la D è un campionato di rigore cioè è una cosa incredibile. Come sei bravo. Però è vero non so se è il sistema arbitrale che magari è più inflessibile sui contatti in area oppure proprio lo stile di gioco della serie D che causa tanti rigori. Sono partite che spesso si decidono con i calci di rigore almeno per adesso sembra così e quindi insomma anche molto in mano al caso perché se a rigore alla fine hai quasi il 70 e 30 di probabilità di segnarlo di pararlo insomma va molto in mano al caso. Però sono partite comunque divertenti ecco ci siamo divertiti una partita che comunque non era facile contro una squadra che si è arroccata in difesa praticamente per tutto l'incontro. Io non ho visto tanta differenza fra una partita di serie B e una partita di serie A adesso. No non hai visto grandi differenze addirittura. Vabbè comunque la partita che con una squadra che ha avuto la fortuna di andare in vantaggio dai primi minuti poi si è arroccata già giocava per il pareggio stava vincendo tutti dietro praticamente. Sì hanno difeso in dieci praticamente. Sì hanno difeso molto bene c'è da dire hanno fatto veramente una bella partita e il problema è stato quindi cercare di riprendere questa partita e di poi di portarla a casa. Insomma è stata una bella prestazione del Parmas a mio avviso comunque e ha avuto un problema di disattenzione nei primi minuti però dopo è riuscito insomma a risollevarsi con in dubbio qualità superiori della nostra squadra nei confronti dell'altra. La vedi anche te così Francesco? Sì assolutamente il Parma è superiore almeno le prime due partite hanno dimostrato questo ha una qualità superiore alle altre. Ovvio che anche le altre squadre penso che lo sappiano e quindi quindi si barricano dietro. Sì e poi è difficile trovare spazio anche se sei più forte in una difesa di dieci persone ovvio infatti è stato difficile. Poi alla fine insomma arriva deve arrivare il gol. Cioè gli altri non hanno visto palla e prima o poi doveva il singolo ha colpito. Sì c'era comunque la certezza anche in curva che prima o poi ci sarebbe stato il gol oppure c'era un po' di timore del tipo adesso perdiamo anche 1-0 contro questi. No 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 alla fine c'era fiducia e anche perché per ricci dei grandi numeri non si può. Cioè attacchi la palla per tutta la partita prima o poi dovrà scappare il gol. Prima o poi deve entrare sì sì. Queste erano le tue impressioni Francesco era anche presente allo stadio l'abbiamo detto in curva nord scusate. Di curva nord e ha anche catturato alcune impressioni da parte del pubblico presente quindi ce le andiamo subito ad ascoltare sentiamo il primo. Allora sono contento della partecipazione del pubblico innanzitutto perché era la prima in casa non si sapeva bene. La curva era abbastanza piena, la tribuna piena la squadra è quello che è però si è impegnata. Melandri e Longobardi forse due migliori diciamo però genericamente è un bel gioco. E allora secondo me il Parma ha giocato bene, ha paduto la partita quindi vittoria meritata la grande Longobardi. La partita è stata bella, mi è piaciuto soprattutto il numero 9. Longobardi è un vero bomber, è tutto bravo. Longobardi è un vero bomber comunque. Era l'idea di tutti. È piaciuto molto, non so se era anche la tua impressione. Longobardi veramente ha fatto una bella impressione o no? Sì sì, ha esultato davvero bomber quello che la gente tendeva. È esultato un po' alla barbuti, si è detto, in questi giorni. Ha esultato per un minuto buono, infatti dopo è stato ammunito. È stato ammunito però è un regolamento, insomma, se esulti troppo viene ammunito. Però vabbè, munizione ben spesa perché c'era tutto questo entusiasmo del primo gol suo al Tardini, magari chissà quanto tempo l'aveva sognato. È arrivato, si è impegnato tantissimo per la squadra. Ma adesso, a proposito, sai cosa facciamo? Andiamo subito a vedere i top e i flop di questa partita. Faccio una grossissima premessa. I flop in realtà non sono flop, ma sono giocatori che hanno brillato meno di altri o da cui ci aspettiamo di più, che vorremmo vedere meglio. Perché in questa partita i veri e propri flop non ne ho notati. No, perché quando fai un possesso del... Cioè... Illimitato. Illimitato. Però c'è da dire che comunque il Parma ha giocato bene. Qui i giocatori che abbiamo messo sono giocatori da cui ci aspettiamo magari un po' di più, però comunque non è una prestazione totalmente insufficiente. Partiamo subito dai top. Allora abbiamo Cristian Longobardi come top, credo che tu sia d'accordo, è il migliore della partita. È stata tutta la partita marcata da tre difensori. È stato bravo. E alla fine ce l'ha fatta. Tutto il guizzo, lo scatto, il taglio finale per il gol è quello proprio da attaccate. Vero. Sì, sa fare la punta centrale. Per la prima volta ho visto una punta centrale in questo nuovo Parma, con i movimenti giusti, gioca anche per la squadra, sa giocare a disponda, molto generoso anche con i compagni. Secondo me è un buon giocatore. L'avevamo visto a sprazi in amichevole in settimana, però insomma un conto è vedere un amichevole e un conto è vedere una partita vera. Quindi insomma ha ben impressionato e speriamo più che altro che resista perché c'è solo lui in attacco praticamente. Gli altri sono punte che non segnano tantissimo, quindi bisogna preservarlo. Speriamo che non gli venga mai un raffreddore oppure speriamo che la società prenda anche un altro attaccante per intervellarli. È il potere della barba. Ah, quando la barba dici che è forte. Sì, sì. Se se la taglia non sarà mai più forte. Per perdere tutto il suo talento. Comunque è l'attaccante che ci serviva anche per sbloccare le partite più difficili. Insomma quello che avevamo detto anche in precedenza e ne abbiamo avuto la dimostrazione. Una partita veramente ostica con una squadra che si difendeva in 11 uomini. È servito il colpo dell'attaccante vero, l'attaccante di razza e quindi come diceva il nostro ascoltatore è un vero bomber. Un vero bomber. L'ha sbloccata lui, l'ha sbloccata lui. Poi abbiamo Zommers. Che non ha visto parla tutta la partita, giustamente, meno male. Mi potresti obiettare, non ha visto parla tutta la partita però ha fatto l'intervento nel secondo finale. Ecco, insomma, l'ultimo... Nel secondo finale ha fatto questa parata... Che ha salvato il risultato. Ecco, devo dire. Parata molto bella sul suo palo, è vero. Però comunque rimanere inoperosi tutta la partita e poi fare l'intervento decisivo all'ultimo secondo secondo me merita comunque una menzione nei top di questa squadra. Assolutamente. È un portiere che era molto criticato dai giornalisti, da anche certe parti della tifoseria. In realtà io lo vedo abbastanza sul pezzo. Ecco, la pettinatura è veramente orribile. No, ma adesso si è rasato. Adesso si è rasato a zero. Ho visto l'intervista recente si è rasato. Però a parte la pettinatura, il portiere secondo me è molto bravo. Giorgino. Ho messo Giorgino. Sei d'accordo, Francesco? Giorgino Corapi. Per me sono una persona unica. Cioè, a centrocampo ci sono loro. Sono quelli che fanno... Corapino. Sì, sì. Fanno la differenza di tutta la squadra, loro due. Sì, mi piacciono veramente tantissimo questi due di centrocampo. La partita scorsa abbiamo messo Corapi. Questa qua abbiamo messo Giorgino. Perché secondo me ha dato la sostanza a centrocampo. Ha sostenuto la squadra. Ha chiuso gli spazi dove si andavano ad aprire. E ha anche un po' impostato il gioco. Rispetto a Corapi ha sbagliato un po' più di passaggi questa volta. Però comunque non si può dire niente. Giorgino invece che fa un altro gioco. Ha un altro gioco più di legna. Insomma, si vede di più. Però ha veramente sbagliato poco. Ha fatto veramente una bella partita. Passiamo ai flop. L'unico vero flop che come al solito mi sento di dire seconda partita consecutiva è Marcello Sereni. Marcello Sereni ormai dirà Marcello, cosa t'ho fatto? In realtà niente. Però purtroppo... Non è vero. Io credo in lui. Mettilo pure fullscreen, Francesco. Purtroppo è molto fuori dal gioco. Questo ragazzo non l'ho visto inserirsi bene nei meccanismi. E vorrei vederlo più presente e con più responsabilità addosso. Purtroppo forse sente un po' l'emozione di giocare con questa maglia, di giocare davanti al Tardini. Però insomma, a te non è piaciuto? Ma ne è più di meno. Ci hai visto poco. Ma no, ovvio che se hai la palla per 50 minuti puoi fare anche più errore. Quella è normale. C'è da dire che probabilmente si è visto anche poco perché essendo tutti schiacciati nella tre quarti campo le ali finiscono per essere praticamente a livello delle bandierine. devono tornare indietro, comunque hanno pochissimo spazio e non possono muoversi molto. Quindi il loro lavoro è veramente difficile. Di lui ricordiamo qualche dribbling, però molte parli perse e a tratti veramente, insomma, è scomparso dal gioco. Però comunque la qualità del giocatore potrebbe esserci. Io comunque continuo a credere a lui. Qui avrei messo anche l'Aurea tra i top. Tra i top, eh? Sì, che ha fatto il gol. Aspetto il rigore, dopo l'ha fatto. E poi mi sembra che ha fatto anche l'assist a Ngobardi. Non sono sicuro. No, non credo. Però vabbè, comunque ha giocato bene. Si chiama Fabio, allora è stato lui. Mi ricordo. Ok, mentre possiamo parlare di Andrea Vignali. Andrea Vignali, ok, Francesco mi dice, ha giocato dieci minuti perché lo metti nei flop. Lo metto nei flop paradossalmente per dargli spazio. Perché voglio parlare un attimo di questo ragazzo che in questa partita magari in questi dieci minuti non ha reso come doveva. Però, secondo me, è un bravo ragazzo che potrebbe giocare attaccante esterno anche al posto di Sereni, ecco, dicendola tutta. Mi era piaciuto nella partita precedente, volevo metterlo nei top nella partita precedente ma comunque aveva giocato poco. L'ho messo nei flop in questa partita perché non ha dato quell'energia che gli si chiedeva entrando in campo. Però è un ragazzo che a me piace particolarmente, quindi vorrei vederlo. Vignali è il sansone di qualche anno fa. Cioè, entra negli ultimi 20 minuti e fa i suoi numeri dal massimo per 20 minuti. Ok, quindi ti piace questo ragazzo. Sì, sì. Ok. L'ultimo flop, anche questo è un flop di incoraggiamento, possiamo dire, è Daniele Melandri, da cui ci aspettiamo sempre magari la luna e che non ha brillato in queste prime due partite. Ci sono molte aspettative. Ovvio che poi il gol arriverà, insomma, la fase è sempre lì, insomma. È stato molto schiacciato, non ha trovato spazi, un po' come per Sereni. Però nell'ultima fase di partita, quando il Villafranca si è un po' ha tentato di pareggiare la partita, avendo più spazi, insomma, ha anche rischiato il gol. Insomma, quando poi si è visto che aveva delle praterie da correre, nel dribbling è forte, negli inserimenti è forte. Però quando il gioco latita nella tre quarti campo fa molta fatica. Nello stretto fa fatica, come ogni fascia agile. Ci vedo molto in lui, insomma. Ti rivedi in lui, insomma, ti senti il Melandri degli amatori. Nella densità non ci riesco, però quando c'è il campo largo io vado. Però da questo giocatore ci aspettiamo sempre la luna, e quindi lo puliamo questa volta, ma solo per incoraggiarlo a dare di meglio. Sempre parlando di calciatori che mi hanno favorevolmente impressionato, possiamo parlare dei due bimbi, i due terzini adorni e rossi, che secondo me hanno fatto veramente molto bene, bravissimi, soprattutto nella fase propositiva, nella fase difensiva un pochino di meno, hanno avuto qualche amnesia, però comunque è una partita di livello, secondo me. Tu cosa ne pensi? Giochetto bene. Poi sono molto giovani, hanno grandissime responsabilità addosso e li affrontano bene, secondo me. Sì, non si vede anche la inesperienza, diciamo. Al fine forse Adoni deve aggiustare un po' il piede destro, però poi il resto... Però crossa con tutti e due i piedi, è molto bravo. Nel dribbling è bravo, si propone sempre, grande corsa, grande generosità, quindi... Diciamo che hanno due centrali che comunque sanno cosa dirli, perché c'hanno... Ah beh sì, sono espertissimi, cavolo. Caccioli e Lucarelli, che insomma... È giusto che ci siano loro a regolarli. Ok, da sottolineare anche la risposta del pubblico, secondo dati ufficiali 10.258 spettatori, in realtà un po' di meno perché gli abbonati non vengono praticamente conteggiati, cioè si contano i 9.770 erotti abbonati, come se ci fossero sempre presenti, in realtà magari non erano tutti presenti, soprattutto quelli in curva, secondo me non c'erano totalmente. Ma come sì? Beh no, la curva negli spicchi più laterali era vuota, però c'è da dire che la curva comunque si compatta sempre al centro, quindi viene difficile capire quanti posti manchino effettivamente. 500 persone hanno comprato il biglietto, quindi per assistere alla prima partita di Parma, grandissima risposta di pubblico comunque in ogni caso, e questa è una bellissima immagine, Francesco metti la full screen, me l'hai fatta vedere, era veramente bella. Poco il trusole. No, ma è bella anche per questo, insomma, come possiamo vedere, tribuna Petitot tutta praticamente esaurita. Sì, ma neanche quando c'era la Juventus e il Tardini, che era così piena. Curva abbastanza piena, quindi insomma una buona risposta di pubblico per la prima partita, non era semplice perché ricordiamo fino a 10 minuti prima della partita diluviava, quindi insomma magari si poteva pensare che la gente preferisse stare a casa a giocare a briscola o vedersela su Sky, quindi grande risposta di pubblico e insomma complimenti a tutti quelli che sono stati presenti. Prossimo avversario, passiamo un attimo al prossimo avversario o devo dire altre cose, Francesco non mi ricordo più? Vabbè, prossimo avversario. Prossimo avversario, allora sarà la Portis Juventus, l'anno scorso giocavamo contro la Juventus, quest'anno contro una formazione quasi simile, ecco possiamo dire. No, no, sono fiorentini questi. Sono fiorentini, esatto. Infatti potete vedere il Giglio tagliato a metà nel loro stemma, una formazione che insomma è una formazione discreta per il campionato di Serie D, ha concluso a metà classifica l'anno scorso, insomma zona Mugello, ci sarà questa trasferta infrasettimanale in questo stadio a 2500 posti che si chiama, come si chiamava Francesco? Giacomo Romanelli di Borgo San Lorenzo. 2500 posti a sedere, stadio su cui attualmente si stanno facendo dei lavori per poter rendere insomma utilizzabile al massimo la tribuna ospiti, si prevede che insomma 200 persone, 200 tifosi del Parma seguiranno la squadra, nonostante insomma il giorno proibitivo perché è un giorno in cui si lavora. Come si fa a dare trasferta? Bisogna sentire il centro coordinamento Parma Club oppure i boys che fanno le loro trasferte. invece per comprare i biglietti basta andare insomma davanti al Tardini, c'è questo, quello che prima era il Parma Store, a comprare i biglietti per la trasferta, costano 10 euro, anche qui il costo di 10 euro è un po' eccessivo forse per le partite, però insomma credo che sarà sempre così. ci sono, c'è stata qualche lamentela in passato, vabbè, 10 euro, se la teniamo. Quindi 10 euro autostrada, poi pranzo a sacco, benzina a 20, no tra l'altro sono dei posti in cui si mangia veramente bene, quindi magari vale anche la pena mangiare in qualche trattoria, in qualche insomma posto consigliato dalla guida Michelin. Tra l'altro Borgo San Lorenzo vicino al Mugello, insomma un posto bellissimo, Toscana, peccato che è infrasettimanale, se no magari la domenica tantissime persone avrebbero seguito la squadra. L'evento sarà trasmesso anche su Sky, sul canale Sky Sport 1, esordiamo sul canale Ammiraglio, e poi su Sky Super Calcio. Brevemente, quale sarà il pronostico di questa partita? Francesco, secondo te? Peccatemi quei storeggiani, scusa, scusa, come loro non sono contenti. Quale sarà il pronostico di questa partita? Eh, non lo so, non conosco la squadra, non so per dirti. Quindi, secondo te provi di un Parma che... Eh, come al solito, adesso la Fortis Juventus, mi sembra che le partite scorse l'abbia fatto riuscita. Ha tre punti, ha perso contro l'Alto Vicentino, che è la squadra, il nostro principale avversario, ha perso 2-1, però, insomma, non è una formazione totalmente, insomma, di impreparati. Non possiamo conoscere, cioè, non siamo pratici della Lega, quindi... Sei speranzoso? Sì, sì, ovvio, bisogna vincere tutte, almeno. Bisogna vincere e lotteremo per vincere? Sì, ovvio. Ok, anche secondo me ci sarà una vittoria, magari sofferta, però, insomma, è necessario continuare a vincere, se no... Ma ci stiamo tutti qui dentro, io non lo so. Non lo so, vabbè, ci proveremo, magari una alla volta, in calma, facendo turni, non lo so, magari ci staremo. Per il Montolk è tutto, vediamo appuntamento la prossima settimana, sempre il martedì, mercoledì, dipende un po', questa settimana usciremo martedì a causa del punto, del turno di presettimanale, la prossima settimana torneremo probabilmente il mercoledì, vediamo un augurio di una buona settimana e come sempre, Forza Parma! Ciao! So am I what I was about to? No, I don't think so, am I what I was about to?